buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di tfa sostegno si parte con i bandi ecco i posti disponibili il 35 per cento dei posti e viene riservato a chi ha almeno tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinque vediamo un po di rispondere alcune vostre domande tra l'altro molto attese perché era un bando molto atteso quanti e quali saranno i posti disponibili del tfa sostegno per docenti che hanno almeno tre anni di servizio proprio sul sostegno e almeno uno aggiungo io riferito proprio alla scuola di riferimento al grado di istruzione di riferimento per cui si vuole prendere la specializzazione acquisire la specializzazione allora si tratta del 35 per cento dei posti disponibili dei 29 mila messi a bando per il tfa sostegno che sono riservati dai docenti con tre anni di servizio sul posto di sostegno negli ultimi cinque che per sapere e per sapere quali sono e quali dunque saranno i posti si dovrà attendere come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto interministeriale 691 del 29 maggio 2023 la pubblicazione di un successivo decreto interministeriale dove saranno individuati i posti disponibili e dunque le sedi autorizzate allo svolgimento dei corsi in parola specifica il comma domanda numero 2 chi ha tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi cinque salterà tutte le prove di accesso solo i test di preselezione salterà solo i test di preselezione mentre sarà chiamato a svolgere le prove scritte valide all'accesso al tfa sostegno poi chiaramente chi ha questa condizione di diciamo di avere almeno tre anni di servizio sul sostegno degli ultimi cinque e gareggerà sul 35 per cento dei posti disponibili e riservati a questa categoria di docenti terza e ultima domanda com'è possibile conoscere la distribuzione dei posti per ogni singola università per esempio a messina ci chiedono quanti posti sono disponibili per il tfa sostegno della scuola secondaria per guardare come sono distribuiti i posti per singola università si consiglia un'attenta lettura del decreto ministeriale numero 694 proprio l'allegato a che l'allegato dei posti dell'ottavo ciclo tfa sostegno sul diviso per università in particolare l'università di messina mette a disposizione 500 posti per il tfa sostegno a scuola secondaria primo grado e altri 500 per la secondaria di secondo grado speriamo che le risposte date siano di utilità a tutti i nostri telespettatori seguiteci ancora sui nostri canali social facebook e youtube in modo da avere notizie su questo argomento e anche su altri argomenti arrivederci e alla prossima